Oggi come amministrazione comunale consegniamo un'opera d'arte alla città. Penso che in questo progetto PICS sia racchiuso tutto il significato del programma PICS. Abbiamo avuto il coraggio di investire in uno dei posti in assoluto più delicati come siti perché parliamo di un sito storico archeologico della nostra città. L'ho detto più volte ma stasera lo rimarco con maggiore vigore. Investire nei siti storici della città è sempre un alto rischio. L'abbiamo fatto perché Benevento è una città piena di storia. La sua bellezza ce la siamo ritrovati e noi abbiamo il dovere solo di riqualificarla al meglio. Con questo museo dioceseano consentiamo di apprezzare le bellezze archeologiche, storiche e culturali della città accedendo da Piazza Orsini per poter poi ammirare il museo, l'ipogeo, tutto quello che appartiene alla storia di Benevento. Abbiamo recuperato quelli che sono i reperti storici dell'antica basilica di San Bartolomeo. Qui c'è anche l'oratorio dove narrano ci fossero appunto le reliquie di San Bartolomeo e di altre figure mitologiche diciamo sul piano simbolico come San Gennaro, San Barbato insomma un po' quelle che sono le figure cardine del nostro territorio che ci hanno impreziosito con la loro prestigio, con la loro storia. Oggi noi consegniamo tutto questo alla città affinché non solo venga apprezzato dalla nostra comunità ma soprattutto perché questi siti storici possano diventare siti regionali, nazionali e attrarre tanto turismo. Oggi parlavo con l'archeologo del Museo Diocesano e diceva che con il potenziamento delle infrastrutture stiamo avendo un ritorno di turismo molto molto importante. Benevento è piena di storia ed è giusto che la condividiamo con la nostra comunità e la possiamo condividere anche con il resto del paese Italia perché questo ci inorgoglisce non poco. Un'ultima considerazione doverosa. Io ho il dovere di ringraziare tutti gli uffici tecnici a partire dal dirigente Iadi Cicco il responsabile del programma PICS per l'ingegneri, l'ingegnere Racioppi che si è prodigato per l'attuazione dei PICS tutti coloro che appunto in stretta sinergia hanno consentito tutto questo. Questa non è autocelebrazione anche perché sono, voglio dire, un normale amministratore della città che giudica semplicemente un qualcosa di magnifico. Questa è un'opera d'arte e invitiamo la città a venirla a visitare quando prima. Grazie a tutti.